Il centro di riabilitazione Teri offre riabilitazione e fisioterapia completa di percorso in piscina calda a 34 gradi. Ti aspetta Cava dei Tirreni in via Gino Palumbo numero 19. Una marcia per non dimenticare le vittime di mani tragedie umane del XX secolo. Questa l'idea del formiano Michele Maddalena che nell'ambito della sua marcia del ricordo partita lo scorso 16 febbraio da Cassino e che attraverserà 50 città, questa mattina ha fatto tappa a Palazzo di Città di Cava dei Tirreni per incontrare il primo cittadino Vincenzo Servalli. È una marcia che deve servire per stimolare particolarmente i ragazzi delle scuole perché ricordare il passato non vuol dire seppellire il passato, ma vuol dire fare tesoro di quella esperienza ed evitare che altre esperienze vengano fatte nello stesso modo. Cinque le tragedie in memoria delle quali Maddalena ha avviato il suo cammino. Il disastro di Mononga del 6 dicembre 1907, la terribile esplosione avvenuta in una miniera d'Arsia, città dell'Istria, il 28 febbraio del 1940, la tragedia di Cannaville del 25 marzo 1953, la tragedia di Marsinelli in Belgio in cui persono la vita 262 persone per la maggior parte minatori immigrati dall'Italia e per concludere il disastro ferroviario di Balvano. Il 3 marzo del 1944 il treno a vapore Potenza Napoli si ingolfò nella Galleria delle Armi. Perirono, a causa delle esalazioni del carbone, 600 persone, tra cui 35 cavesi. Sarebbe stata una cosa illogica non ricordare quel sacrificio, perché è stato un sacrificio dettato dalla necessità, dettato dal fatto che si viveva nella zona, nella indigenza più assoluta, con gli americani che spadroneggiavano in lungo e in largo e che non permettevano. Napoli e Napoli e Salerno erano due porti importantissimi e lo prova lo sbarco che è stato fatto qui a Salerno. Quindi praticamente questa povera gente che si è avviata quel 2 di marzo del 1944 con una sosta a trasbordo a Battipaglia non sapeva assolutamente. L'unica cosa che diciamo al Signore è grazie per averli fatti morire senza soffrire. Il professor Antonio De Caro, rappresentante del Lions Club di Cava dei Tirreni, ha consegnato a Maddalena un vasetto contenente la Sacra Terra del Civico Cimitero Metelliano, che contribuirà a riempire due urne che saranno consegnate ai comuni di Ercolano e di Balvano per commemorare le vittime della tragedia. A Cava dei Tirreni, per rendere onore ai caduti di Balvano, il 3 marzo, giorno in cui ricorre il 73esimo anniversario della tragedia, alle ore 11.40 alla stazione ferroviaria sarà scoperta una targa commemorativa, al termine di un incontro a Palazzo di Città in programma alle 9.45.